Il clima bellicistico contro i migranti, come se fosse colpa loro, il fatto che si spostano come se loro lo facessero a cuore leggero, si dà sempre la colpa ai poveri della povertà, non è che si dà la colpa alla povertà o si cerca di affrontare il tema della povertà. Mario Giro, che giudizio dà oggi della politica migratoria espressa fin qui dal governo Meloni? Più o meno come i governi precedenti, tutti di sinistra, tecnici e attuale di destra, cioè si fa molta propaganda, ci si rivolge all'opinione pubblica pensando di surriscaldare il clima, si usa la questione migratoria come una leva elettoralistica e non si risolvono i problemi. Come sono stati trattati i naufraghi, i superstiti di Cutro è veramente una vergogna, è inutile stare a discutere se li abbiamo salvati o no, se poi li lasciamo per strada senza un tetto sulla testa, è veramente una cosa vergognosa da parte del governo, quasi più del resto. Una volta che è successo il dramma almeno tratta bene i rifugiati per non parlare della questione dei corpi, delle bare, Bologna, non Bologna, eccetera, eccetera. Quindi io direi che questo dimostra una scarsa visione, una scarsa visione e una scarsa consapevolezza di quello che succede. Dall'inizio dell'anno ad oggi, secondo i dati del Viminale, sono arrivati in Italia oltre 20.000 migranti, più del triplo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E dietro l'impennata di sbarchi ci sarebbero i mercenari russi della divisione Wagner, presenti in gran numero nel Sahel e in vari paesi dell'Africa. E quanto sostengono il ministro della difesa, Crosetto, e il ministro degli esteri italiani, che citano informazioni riservate dell'intelligence italiana. Professor Mario Giro, africanista, già vice ministro degli esteri, davvero il boom degli arrivi fa parte di una chiara strategia destabilizzante condotta dalla Russia nei confronti dell'Italia e dell'Europa? Che ne pensa? Non è necessario pensare al ruolo della Wagner per una questione di questo tipo. Le ondate di migratorie si preparano molti mesi prima. Certamente siamo in una situazione tesa con la Russia, c'è la guerra in Ucraina e non siamo amici. Anzi, come dicono in Russia, siamo un paese ostile, ormai siamo considerati un paese ostile. Ma direi che innanzitutto va detto che la presenza russa è diminuita in questo momento in Africa a causa della guerra in Ucraina. Quindi sono stati tolti una serie, soprattutto ufficiali, che mancano sul fronte ucraino dal Mali e dal Centrafrica per mandarli a combattere in Ucraina e anche dal Burkina. e quindi direi che in questo momento abbiamo contezza di una stabilizzazione verso il basso della presenza russa Wagner in questi paesi dove è presente. Detto questo, può essere sicuramente che la Wagner in qualche modo si sia collegata alle reti mafiose, tra virgolette, che organizzano il trasporto dei migranti dal sud del Sahara fino a passare il Mediterraneo, più che intervenire direttamente. Questo è possibile. Le reti di questo tipo, le reti mafiose di questo tipo esistono da tanto tempo ed è per questo che la battaglia contro gli scafisti, se posso fare un parallelo, è come la battaglia contro i pusher nel mercato della droga. Certamente può aiutare a fermare dei pusher, ma poi si sa che vengono facilmente sostituiti. Il problema è a monte riuscire a intervenire sulle filiere mafiose che organizzano i trasporti. E non dobbiamo pensare che ci stia dietro chissà che cosa. Quello che c'è dietro è semplicemente un mercato. È un mercato in cui ci sono soldi, come tanti altri mercati illegali o addirittura criminali. Lo scafista è l'ultimo, è l'ultima rotellina. Lui stesso in genere molto spesso è un immigrato che vuole venire da noi. L'unica differenza è che non paga il viaggio, perché si presta a fare lo scafista molto spesso. Talvolta no, talvolta tornano indietro. Dipende da che tipo di rete. Quindi io direi che non c'è bisogno della Wagner per capire quello che sta accadendo. Sapendo anche che queste ondate sono preparate prima. L'anno scorso venivano di meno perché prima c'era stato il Covid. Quindi era tutto fermo anche nei paesi di provenienza. Adesso tutto si è rimesso in moto, così come sono arrivati tantissimi turisti l'anno scorso e quest'anno in Italia. Così anche arrivano molti. Cioè tutto si rimette in moto, si rimette in moto anche il mercato illegale del trasporto dei migranti irregolari verso l'Italia. E noi ne vedremo ancora altre ondate. Per esempio il terremoto in Siria e in Turchia creerà tra qualche mese una nuova ondata che si sta preparando. Ecco, secondo quanto ho riferito nei giorni scolti, sempre da fonti dell'intelligence, dall'altra parte del Mediterraneo ci sarebbero quasi 700 mila migranti pronti a partire. Ecco, Mario Giro, è credibile a superare questo numero? Nel 2015, nel 2016, nel 2017 si diceva 1 milione, 600 mila, 1 milione e mezzo. Diciamo che sono stime fatte molto così, a spanne. Non lo sappiamo, non possiamo dire, se fossero anche confermate queste cifre, sono delle gocce rispetto ai milioni, alle decine di milioni. In questo momento sono circa 100 milioni rifugiati nel mondo. Quindi, alle decine di milioni che si spostano, dobbiamo sapere che siamo di fronte a un fenomeno strutturale che non va affrontato con lo spirito dell'emergenza e con l'angoscia e l'ansia dell'emergenza, ma va affrontato strutturalmente e in maniera anche lucida. Contemporaneamente, effettivamente c'è un'insoddisfazione che l'Italia esprime anche come governo nei confronti dell'Europa. E qui c'è il gioco dell'uovo e della gallina, no? Come nell'ultima discussione al Consiglio europeo, i stranieri si lamentano che noi facciamo scivolare tanti, tipo gli stranieri di altri Stati membri dell'Unione europea, si lamentano che noi facciamo scivolare molti stranieri regolari attraverso le nostre maglie senza fissarli, senza prendere nomi, impronte, eccetera, in modo che se arrivano da qualche altro parte, in Francia, in Germania, in Austria o più a nord, non si possa stabilire precisamente se sono passati attraverso di noi. E noi ci lamentiamo che loro, ogni volta che gli chiediamo di aiutarci, non ci aiutano. Come vedete anche le polemiche di Italia e Francia su questo, e quindi qui è l'uovo o la gallina. E questo va avanti da ormai vari anni, a dimostrazione che l'egoismo europeo è stupido. La Libia non trova pace, la Tunisia è sprofondata in una crisi gravissima, il suo presidente vuole cacciare i migranti subsahariani, nessuno nella sponda, diciamo, sud del Mediterraneo sembra essere in grado o voler frenare le partenze. Cosa resta da fare? La Tunisia si sta libizzando, finché non c'è uno Stato, uno Stato serio, uno Stato responsabile, sia in Libia e dovremmo dire ormai purtroppo anche in Tunisia, noi non vedremo finire questo fenomeno, perché i paesi diventano, come dire, degli scolapasta, da cui passa tutto in qualche modo. Cosa dobbiamo fare? Come dicevo prima, dobbiamo smettere di pensare a questo fenomeno, a uno fenomeno emergenziale, e poi dobbiamo sapere, l'altro grande tema, è che noi mancano, manca forza lavoro, tutti gli impenditori si lamentano, tutte le famiglie si lamentano, trovare una badante, un badante in Italia è diventato un'operazione difficilissima, quindi abbiamo bisogno di integrare il segnale della lingua, di integrare perché possono lavorare più presto possibile tutti quelli che stanno già da noi e che stanno per arrivare, perché ne abbiamo bisogno. Ci sono oggi i migranti che vogliono partire per l'Italia, da dove arrivano? Sono di tutti i tipi, abbiamo quelli che vengono per urgenza e emergenza, come gli afghani, i siriani, che ci converebbe prendere perché è gente che ha tutto studiato, eccetera, eccetera, un po' di iracheni, poi ci sono un po' di africani che si infilano nei flussi, anche da paesi stabili che stanno crescendo, come la Costa d'Avorio. Perché vengono gli iboriani in Italia? Gli iboriani in Italia vengono perché non credono più nel loro paese. La crisi della democrazia in Africa spinge verso l'Europa, è un potentissimo push factor, che spinge verso l'Europa moltissimi africani, come vediamo nelle isole greche, dove ci sono molti congolesi. Congo è un disastro, quindi è evidente che si cerca di andare dove si può stare meglio. Eppure la nostra opinione pubblica è spaventata dai proclami di una certa stampa, di una certa politica che parla di invasione. Certamente, si usano termini militari, poi adesso siamo in clima di guerra, quindi viene molto bene. Il canale, diciamo, umanitari, i corridoi umanitari sono largamente insoddisfacenti nei numeri, nel senso che non vanno a rispondere alla grandissima mole di persone che chiedono assistenza, aiuto. È l'unica cosa che funziona. È inutile dire che sono insoddisfacenti nei numeri. Allargati i numeri. Per questo esistono i corridoi umanitari ideati dalla comunità di Sant'Egidio e gestiti insieme alla Tavola Valdese, alla Federazione delle Chiese Protestanti e anche in parte con la Caritas. Come segnale che se la società civile, alcune organizzazioni della società civile, in questo caso addirittura, ti direi, nella società civile e religiosa, sono in grado di usare le leggi esistenti per portare in Italia migliaia di persone, le domande che si aprono sono A, perché non lo fanno anche i governi, in modo legale, visto che sono le loro leggi che vengono utilizzate, B, perché non lo fanno le altre organizzazioni della società civile, forse perché aspettano soldi? A, perché non lo fanno anche i governi,